Allora, l'obiettivo, creare un politico. Chi l'ha scritto? L'ha scritto che ti dì, ti dì. Tu fai una cosa dove strizzi l'occhio e fai capire che stai dicendo un'altra cosa, il giornale la recupera. Lì facciamo convire un reato gigante. Costruire la fonte e definire gli elementi importanti, giusto? Ok, esplicitare il messaggio da veicolare, definire il canale, ovvero il mezzo fisico attraverso il quale deve passare il messaggio, definire il target di riferimento e studiare gli effetti del messaggio. Gli studenti hanno detto, andiamo a vedere nella realtà, magari anche forzandola, anche inventandola, se le teorie reggono all'urto con la realtà stessa e di vero gli dice, bene, andiamo ad osservare la realtà degli studenti che studiano la realtà attraverso lo sguardo della telecamera. Pensi che degli studenti di scienza della comunicazione senza esperienza siano in grado di fare comunicatori? No, assolutamente no.